e ok e allora aia vediamo e c'è sto c'è sto allora come sempre come sempre tanto qua comincio a mettere i cazzo di comandi in anticipo come sempre un saluto in ogni caso a youtube del futuro un saluto twitch ora saluto james e cosa volevo dire che cazzo scritto una stronzata scritto interessante no ogni volta c'è un traffico iniziale per sistemare il tutto allora io nel titolo in questo caso questo episodio ho messo la fine ma perché non so se effettivamente può trattarsi del dell'episodio finale un po andando a guardare quella ma a livello non di andando a guardare il gioco in sé andando ad informarmi su quella che poteva essere la durata del gioco più o meno anche per appunto regolare regolarmi con quelle che sono le le varie live di quello che ho capito sempre intorno alle alle 12 barra 13 e io sto sporando mi sa di un botto comunque sono più avanti quindi questo perché sono un cesso io non peraltro quindi questo mi fa pensare a come comunque non ci dovremmo allontanare di troppo realmente dalla chiusura di quest'incubo quindi una maschera allora eravamo arrivati alla prigione di toluca dopo dopo una serie di problematiche che ci sono state quello che era il brookhaven speso più grande no vabbè quella la carabina dopo una serie di problematiche riscontrate incontrate il brookhaven ora siamo alla prigione di toluca e se devo essere onesto la mia esperienza con quello che era il classico io la prigione di toluca onestamente non la ricordo non ricordando la prigione di toluca non so dire se bastare il minchia di volume in cuffia perché mi sta distruggendo le ore c'è ok e cos'è questa questa soundtrack un po un po così è allora quindi non so dire quanto è realmente si potrebbe essere lontani dalla fine no però è tutto è tutto da scoprire tutto da capire tutto da merda è tutto buio non tutto da scoprire si vede una sega come sempre e quindi può dire esploriamo bello buio pesto perché c'è un salvataggio io salvo non si sa mai salvo dopo aver caricato la partita appena dopo averla caricata questa è una mossa interessante il gioco è stato salvato va bene però io non vedo ma se in live non si dovesse vedere nulla è perché effettivamente non si vede una sega in anche facciamo scherzi al buio perché metto ad urlare io nel dubbio l'esperienza dei videogiocatore mi fa dire di camminare costeggiare c'è qualcosa c'è ed è terribile questa cosa di costeggiare appunto la parete comunque come al solito non l'ho fatto subito appena aver iniziato la live lo faccio ora qualche minuto dove si è già avviata ringrazio come sempre quelle persone che dimostrano questa forma di supporto di supporto non sapevo cosa dire perché perché vuol dire tanto c'è sembra una cazzata ma vuol dire ogni minima forma d'aiuto è ben accettata ma io non so io sto segnando qua porte di ogni tipo problema è che hai segnato cosa segnato gismondo fammi capire colomba senza ali una colomba senza ali c'è tutta questa serie di animali senza le parti che maggiormente le rappresentano un po strano come come discorso problema più grande è che con questo buio pesto io faccio seriamente fatica a deambulare e quindi anche perché non mi sembra ci sia granché da fare lì ma se io vado di qua per dire la mensa no ma la mensa e da dove c'era la cappella ma la cappella era la zona più o meno chiusa questa è chiusa questa è chiusa che cazzo devo fare io sono venuto questa è la cappella certo che dirio sono venuto poi questa è la cappella è una una scelta di parole alquanto particolare un ordine abbastanza simpatico ma a sento suoni ma tutto perché sei vivo che sei in piedi lui è vivo lui non è più vivo perché qui c'era ora uno uno stronzo a caso qua non posso essermi per essermi perso a più o meno cinque minuti di live no io devo tornare mi sei nella stanza completamente buia ed affrontare le mie paure magari magari dirigendomi verso il centro cioè camminando dritto per dritto no dovrebbe essere un'idea dritto per dritto a cazzo infatti cos'è questa cazzo in che va a 8 frame aspetta aspetta a parte che vedo sempre poco i pesi qua si ha a che fare con i pesi se dovessi mettere il peso più grande e ma in tutto questo cosa mi rappresenta questa facciamo finta ok è questa situazione cosa mi vuole rappresentare esattamente ma non ne ho altri però io non vedo non ce ne sono altri giusto qualcosa ho fatto ho aperto ho aperto 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 una delle porte è quella non lo so vedo poco sembra quella del serpente ho aperto una delle porte cinchiale senza occhi serpente senza testa e quella sinistra praticamente quindi questa si è aperta si aia si è aperta è la ho visto ho visto in lontananza nella lontananza stai calmo James cerca di mantenere un certo un profilo di un certo tipo oh ma perché sento suoni bruttissimi bruttissimi brutta 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 roba brutta roba dove stai inquadrando che cosa stai guardando James mi metti un'ansia cazzo cinque siringa bello qua nulla credo sia oltre questa porta non nei suoni aspettate leggere così diventa una roba atroce onestamente c'è ok posso eliminare quello che sta facendo sto bordello è scomparso ok hai rotto il cazzo adesso va bene sì hai rotto i coglioni ora vieni e basta combatti stavo scherzando oh madonna questo è quattro stampe no no eh eh ma ancora c'è il bordello io vorrei leggere quella nota ma così è un po' complesso salve vabbè eh leggiamo un sollecito a tutte le guardie con effetto immediato è assolutamente obbligatorio per tutti studiare il manuale aggiornato di manutenzione del generatore tutti noi ricordiamo cos'è successo l'ultima volta che c'è stato un picco sebbene la maggior parte di noi vogliamo dimenticarlo non si rivel verificherà un altro incidente va bene c'è stata una problematica il sound queste sono tutte chiuse oppure io non sto sentendo i miei pencazzo i miei pensieri stavo per dire però questi a quattro zampe no eh c'è solo questi mancano veramente e abbiamo fatto madonna ma stai scherzando ti è no vabbè non me l'aspettavo sono cacato addosso scendi qua che cosa hai fatto che è no basta non so non so non so scusami scusami madonna il danno che dobbiamo fare no 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 ehi dov'è 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 potrebbe essere ovunque sì però adesso la stai cagando oh madonna mi sono non cagato addosso di più ok ma stiamo un attimino esagerando adesso eh ok ok ma quanti sono ma che sta scemo completamente oh 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 io vi sento eh no ma ste robe no eh questi a quattro zampe no e no è una certa età voglio dire non è che mi devi far prendere ah ok lui no e devi fare sì però James io voglio dire una cosa ma tu pure porca puttanaccia eh scusami eh ah no vabbè e ho capito però sta stronzata ma manco così a farmi buttare le siringhe a farmi buttare i colpi tutto questo perché per niente perché poi nemmeno posso entrare ah inizia all'insegna del panico questa 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 live bene mi fa piacere mi ci sounds allo ascolta eh che dobbiamo fare eh ho capito adesso avete rotto seriamente mo basta e uno due possono anche andare ma quando c'è uno spam di ste merdacce queste sono tutte chiuse one hundred percent che queste stanno tutte belle che chiuse ma queste stanze si possono ancora? mi vuoi dire ancora? mi vuoi dire che non sono finiti? perché io li sento? che famo? li prendiamo sti colpi? grazie perché sta zona mi sa di una zona di più o meno di merda c'è? oddio il salvataggio quello che ti salva esatto salviamo e via allora c'è un attimo di tregua di calma apparente bruttino questo cos'è? leggi livelli di trasferimento di potenza verde livello di manutenzione da usare per effettuare un test prima di ogni utilizzo giallo livello ottimale da mantenere per un funzionamento in sicurezza rosso pericolo non azionare può causare un picco di potenza e un sovraccarico del sistema e io aziono e la mia domanda è io lo devo far diventare rosso? qual è il mio obiettivo? fare danno? perché sono molto bravo in questo no no che cosa no cosa fai? vabbè si deve andare un po' mezzo non dico a casaccio però ok no cazzo no no bastardo cavolo non arrivo mai a premere il rosso è una combinazione un po' eccolo ok oh merda ho fatto il danno ho fatto il danno ho fatto ho fatto il danno ho fatto ho fatto il danno perché i suoni che sento non sono belli questa è chiusa però eh ma mi sa di aver fatto una mezza stronzata panico oddio il peso medio è un peso medio addio santissimo no ma io non ci arrivo a uh questi suoni simpatici figlio di buttanazza aia ah sono morto praticamente bene madonna mia che cosa minchia dobbiamo fare allora hai rotto tre quarti va bene va bene uff devo abbassare ancora perché sento ok il bordello sento nelle orecchie cioè mi esplodono non lo sapevo io mamma mia basta eh però troppe risorse cazzo cazzo così è dura così è durissima mamma mia eh almeno nooo oh no però esci quella posizione è una merda sappilo ti prego non ti colpirò mai così ok via sbocchino qua mi sai quante cazzo di volte devi sboccare lo sboccatore professionista lo chiamavano che sta facendo cosa sta dicendo stai zitto sitete eeeh cos'è questo foto di famiglia una famiglia tranquilla no saremo presto insieme infatti una cosa una situazione agevole adagegevole agedevole allora colpi di pistola altri merda ti ho capito ok perfetto cioè oddio ho dovuto usare i colpi comunque tre però alla fine per recuperarne quattro vabbè c'è stata una forma di un minimo guadagno questo muro è da rompere sì ma questo muro è da rompere perché questa non si apre oppure quel muro è da rompere perché quella non si apre ok let's go di qua ok cos'è oh no eh ma io sento tanta altra roba contemporaneamente e infatti oh cazzo vorrei ucciderla con la pistola lei ok lui che cos'è lui lo vedo confuso ragazzo ok e qua sapete cosa mi fotte il fatto che questo gioco è un bastardo ecco cosa chi è via perché ho no 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 lo schifo lo schifo l'ho visto però eh devi fare sti attentati mi devi far prendere i coccoloni anche meno anche meno allora io mi sto confondendo non mi aspettavo questo questo caos qui dentro mi sto terrorizzando un attimo eh ok ma mi devo ricordare no 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 ma tu sei scemo completamente ma tu non ti puoi muovere in questa maniera cioè io non no no eh allora siamo calmi ho il peso medio comunque in tutto questo che penso possa essere utile rapporto esecuzione DR88 prigioniero E662 età 23 sesso maschile metodo folgorazione testimoni 0 avviso al parentale ma al parentale al personale al personale medico durante l'esecuzione di ieri sera il prigioniero ritenuto disabile si è alzato e si è avvicinata alla sedia senza alcuna assistenza un miracolo d'ora in poi bisognerà prestare la massima attenzione nell'esaminare la cartella clinica dei detenuti le guardie devono essere messe al corrente della facoltà dei detenuti per evitare incidenti ma questa non mi sa di facoltà perché se è sempre stato disabile o comunque ha avuto una qualche forma di deficit ad un certo punto si verifica l'opposto così è un po' un po' strano non dovrebbe succedere è un miracolo veramente è una forma di una benedizione questo che cos'è? armeria la chiave della carabina ma io dove sono in tutto questo? ok non lo so al centro di Silent Hill si può trovare la principale attrazione turistica della città il lago di Toluca ma questo splendido bacino idrico ha anche un lato oscuro quella che può sembrare sembrare una balena una banale storiella di fantasmi sentite innumerevoli volte è vera in questo caso un fatidico e nebbioso giorno di novembre del 1918 una nave da crociera chiamata piccola baronessa salpò senza mai più essere rivista gli articoli di giornale che trattarono dell'evento non fornirono alcun dettaglio sulla scomparsa della nave malgrato le ricerche approfondite della polizia malgrato eh malgrato non furono mai recuperati né un solo frammento della nave né i resti dei passeggeri o dell'equipaggio nel 1939 tuttavia si verificò un incidente le cazzo di orecchie o i capelli ok ancora più bizzarro molte pagine mancanti sono state strappate chi può dire quante vite siano state spezzate dalle acque del lago di Toluca chissà se i teschi senza occhi dei dannati fissano disperatamente la superficie dal fondo bramosi di un ultimo respiro o se la morte ha serbato loro una fine del tutto diversa non so a che fine ha serbato l'oro ma so quella che aspetta me a breve cioè ovvero il coccolone l'infarto perché qua ormai diciamo che è complessa la gestione del del prosecuzio del gioco cioè mi sta piano aia siamo calmi dove sono ah sono tornato sono tornato qua però si è tolta la luce Ma io posso aprire questa È la La carabina Però Non ho troppi colpi Quindi Mi sa che devo avere Cosa è stato Qual è il tasto? Il destro Vediamo come 1, 2, 3, 4 4 colpi Questa mi sa di arma molto precisa La voglio provare Con il primo stronzo Che mi capita sotto Sott'occhio Per capire più che altro La bontà dell'arma E allora Io ho trovato l'altro peso Questo vuol dire È morto? Porca Eva Un colpo? È bestiale Però io Quindi la vorrei un attimino Preservare Un colpo? Allora No Che dobbiamo fare? Ah ok Chi è? Chi è? E chi è? Chi è? Ah beh Ma almeno Ce la facciamo a colpirlo? Ah beh è andato Aspetta Oh cazzo Madonna mia Impressione Chi è? Madonna ma che schifo Che mi fanno Meno male che Ok Non hanno un tempo Di reazione Incredibile Questo un po' Mi aiuta Nel Eeeh Ascoltami Non è che dobbiamo fare scherzi Adesso Ok L'altro peso Peso medio Dove va? Eccolo qua No Qua Allora A sto punto io credo No Eeeh Però io potrei anche toglierli Infatti Ora io li posso togliere E mettere Interessante Aia Aspetta Metti questo Togli questo No Non dovrebbe cambiare nulla A livello di No 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 A livello di Cosa stavo dicendo Ma Mi sembra che Forse manca Ok Cos'è 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 la testa Del Mi sembrava Mi sembrava il toro Eh Non vorrei dire Stronzate Il bue Il bue Il bue Giù per il trotto Mio padre Compro No mi sembrava il Il Stai calmo Uno come cazzo fa a combattere il buio C'è già il gioco è quello che è di suo Dove sono Madonna mia Madonna mia Mi sono Mi sono Mi è venuta una roba al cuore Va bene Alla fortuna di questi nemici Che sono Estremamente Graci Si è rialzato Stavo dicendo Che a livello fisico Sono abbastanza Gracili Di resistenza In questo caso E che realmente Non hanno Una grande variabilità Negli attacchi Ci fanno Quell'attacco lì E pratica Fermami in panico Sempre E poi si fermano No No Ascolta Non vedo niente Potrebbe essere ovunque Ah no Se sei tu Mi può anche andare bene Ok 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 E via 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 Queste Chiusa Azzo Ah Questi suoni Veramente Perché Perché li sento Che lugubrano Nell'oscurità Nelle ombre Ma non li vedo Che è una cosa terribile Ah i suoni Madonna mia Che cosa dobbiamo fare E vabbè tanto se mi deve prendere il colpo deve succedere Ecco Che cosa Ma che 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 Va bene No 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 sento però corre ancora ma non potete correre nel buio Dobbiamo fare Muro A caso un muro Io dove vedo muri entro Ok Ci sta Ci sta Risorse Not bad Da qui si apre No Sono dentro Perché non si apre Vabbè Sarai stronzo James E' chiaro che siamo alla ricerca dei pesi E' meno chiaro Domenica Turno mattutino Segnali Segnalati disordini C 140 urla Che C 777 Lo perseguita E che le sbarre non possono trattenerlo Somministrato sedativo a C 140 Reclusione a mezzogiorno Effettuata una perquisizione cautelare della cella di C 777 D5 Nessuna traccia del detenuto uscito dalla cella senza sorveglianza Si raccomanda un'ulteriore valutazione psichiatrica di C 140 Turno pomeridiano C 140 e C777 non sono nelle loro celle Lanciato l'allarme Ricerca in corso Aggiornamento Porta del bagno sbarrata da dentro Stiamo cercando di aprirla Non si sente nulla dall'altra parte Reclusione serale Ok Perché cosa hai segnato esattamente? Cos'è che hai segnato? Ci si sta capendo più un cazzo con tutto quello che scrivi James Ho capito gli appunti Però Stai calma adesso Nemmeno io a scuola li prendevo così gli appunti Che cos'è questa? Chiave del blocco D Chiave del blocco D Salvataggio, ok Chiave del blocco D La chiave del blocco D Che cosa apre? Il blocco D Dov'è il blocco D? Ora è da capire Penso sia quello lì in fondo Basta con sti cazzo di suoni Questo? Ah Ok Oh no Ma non c'è il James Ok No, lo devi colpire E te ne devi andare indietro Indietro Grazie Fai finire lo schifo E prendiamo i colpi Via Tre colpi di carabina Eh, considerando che sono abbastanza forti Allora, però sti suoni sono insopportabili Sono ovunque Ovunque Oh signore L'ho visto Ma che cosa dobbiamo fare? Eh, è ripassato da qua Madonna, madonna Madonna, madonna Cosa sento? Cos'è questo? È un peccato che tu non l'abb... Biglietto minaccioso È un peccato che tu non l'abbia trovato Non conosci questo... Questo posto meglio di me Eh? È tardi ormai Vado a fare una passeggiata Una passeggiata? Bravo ragazzo Ecco la tua ricompensa Vado a trovare il mio amico Dovremmo farci entrambi un bagno Che puzzate Chiave appuntita? Chiave appuntita Chiave appuntita Dove può essere utile La chiave appuntita Io accenderò un attimino qua la luce Perché non si vede Nulla Lettera della guerra Cioè ma Ma nemmeno mentre leggo Ma nemmeno mentre leggo Provo a leggere almeno Perché quello era E che cazzo avevo recuperato ora? Lettera della guardia Oddio che botta Ho visto qualcuno Che se ne andava in giro Dopo che sono state spende le luci Di nuovo Chiunque sia stato Quante volte devo ricordarvi Che non dovete mai lasciare Il vostro posto senza permesso Il prossimo che becco Lo denuncio al direttore Prova a prendermi se ci riesci Ah gli ha lasciato la La nota divertente Del tipo Provaci Spirolino Niente Eeeh Dopo Ok Olla Io da qua sono arrivato Ma dove sono esattamente? Ok qua Eeeh Fammi pensare Questa è chiusa Basta Ve ne prego Basta Perché hai preso l'arma James Cazzarola Ecco Madonna mia Ma non è possibile Vabbè che Infiniti non possono essere Quindi Teoricamente Più ne faccio fuori Meglio è Si spera A livello di Di logistica Dovrebbe essere Quella Eeeh Io una chiave Cos'era quella che ho trovato Una chiave? Eh il ragionamento è Il ragionamento è Che cos'è questo suono? Oh merda Ecco che cos'è Questo era Ma poi stanno fermi Oh puttana di Eva Ma non Non ho capito Ma 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 Davvero Ah Eeeh E anche Basta Adesso Ancora Calma un attimo Mi fate ragionare Allora Piano Là c'è Ok Alle mie spalle Di qua Eh perché Se no Non riesco Nemmeno a Niente Forse Devo scendere Non sono sceso Così Questa Non l'avevo aperta No Era chiuso Infatti Cosa c'è qui Ecco qua Vabbè Ma che te lo dico a fare Ormai Cosa te lo dico a fare Allora Io ho trovato Cos'ho trovato io A scassinare le serrature Ma serrature in generale Dove vai James Serrature in generale O serrature Serrature Cioè Ce n'è una Nello specifico Perché potrebbero essere Anche penso Le varie celle No L'idea è E ci Fermi tutti Fermi tutti E qui Secondo me Devo un attimo Scassinare qualcosa Un po' di luce Tipo questa No Tentativo No Non è questo Forse il ragionamento Giusto Questa Sbarrata completamente Qui c'è C4 E C5 Ok Cioè è l'unica Che non avevo provato Effettivamente Va benissimo Perfetto Quindi Si striscia Qui sotto Come i sorci E c'è cosa? Sta arrivando Lo so Le sbarre I muri Non possono trattenerlo Entrerà Entrerà di sicuro Ho ancora tempo Posso farcelo Quasi finito Ma è vicino Lo sento Sta arrivando Per farla finita Lasciate che arrivi Che brutta situation Biglietto paranoico E' proprio il nome del biglietto E' il biglietto in sé Che è paranoico Non chi l'ha scritto Cioè è il biglietto Che è paranoico Si Di natura paranoica Ai 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 Mi accontento Di questo silenzio L'ho detto L'ho detto L'ho detto eh Non c'è niente? Quanto non ti credo Cazzo Qua Non ti salveranno Ok Colpi per pistola Sono dei cessi Pevanda Altri cessi Qua manca un cesso Ma è normale Ma è normale Sta roba Ma è normale Sta situazione Cioè Ma voglio Tutto Perfettamente Nella norma E che fa Scherzate Sembra giusto Minchia che posizionamento Da figli di puttana Dei nemici Tu Vedo Ok Mi ha visto? Non so se mi ha visto Magari posso farla Un po' stealth Magari se sono bravo E veloce Tipo così Ok Ok Oh Merda Perché tutti Sti cadavri Qua? Perché la cosa Mi convince Veramente poco? Veramente poco? Gli skip Ma stiamo a carmi Allora Ok Buco Ci si ficca sempre Le docce Questo suono di lamiere Che sbatte Proprio Rassicurante Non mi fido Ti è Ti è Altri colpi Ci sono troppi colpi Ci sono troppi colpi E quando ci sono troppi colpi La roba Ai 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 Che cosa? Le luci eh Cacando addosso Perché le luci sono andate Maria 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 Stiamo a carmi Si vede Una sega Che cos'è Ah vabbè Vabbè Come la fai Come la fai Difficile Forza Ok Sbocca Bravissimo James Per favore James Ok Ce la possiamo fare Ti sbocca Buono Via E via questo Allontana Ok Però sempre Mi sento Poco 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 Sicuro Allora Io sono qui Per fare cose Esattamente Cioè non Colpi sempre Niente male C'è qualcosa Per forza Non la conta giusta Ah Ah no Vabbè È uno Di quei Di quei Glimps Allora Secondo me Devo fare qualcosa Con Le platte Via 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 La vasca Ogni tanto Una pulita No Nove Nove Mamma mia Io posso Riaccendere un attimo Le luci Però Tornando indietro E male Non sarebbe Qua Allora 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 E per forza Da fare Qui Qualcosa Perché Cazzo Non Posso arrivare Qui E non Qui E da dove Ok Un muro Da rompere No Ste vasche Non Non le Contra Il buco Mamma mia No James Ficca Ma Sì Ma Sì Tanto Tutta Salute Ecco Ah Ha preso Grande Che Cosa No 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 Corsa 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 Cosa Ce lo nel culo Ce lo nel culo Ce lo nel culo Il buco Il buco Dov'era Il buco James Calma Corsa 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 Sù Allora Respira, 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 respira Sì, suoni Sotto Allora, allora, il peso grande Il peso grande, il peso grande Il peso grande Devo tornare La bilancia Eccola Cazzo No, quella era una situazione poco Poco gestibile Quindi Intanto salvo Perché mi sto cacando addosso E non si sa mai Si salva Via E poi Si posiziona il peso E quindi si apre un'altra porta Dove cazzo stava? Qua Ok Peso grande Adesso cerchiamo di capire come andare a Eeeh Andiamo a tentoni Se io sposto questo Quali che ho aperto? Boh Ah, sarà che Cazzo Ne devo togliere uno piccolo No, troppo piccolo Questo No, troppo grande Questo Lo metto qua Perfetto Che cazzo è quello? La porta del 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 fagocero Del cinghiale Che sta Che sta Cinghiale senza occhi Va bene Va bene Progressi Allora Accendi qua intanto Se almeno per un po' Si arriva a vedere qualcosa Silenzio 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 Stiamo buoni Stiamo buoni Questa Questa Entra Via Cos'è? 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 Chi è? Allora Questa Chiusa Questa Qua niente Domenica Turno mattutino Incidenti in infermeria D183 Ha aggredito il personale medico E ha cercato Di rubare i farmaci La situazione è sotto controllo Reclusione a mezzogiorno Giravoce Che si stia diffondendo Una malattia tra i prigionieri Segnalato all'amministrazione Turno pomeridiano E130 Ha avuto un attacco di tosse Segnalato al personale medico Reclusione serale Ma Io avrei fatto qualche Qualche indagine In più Sul come Sul perché Tutte queste problematiche A livello Psicofisico Allora Qui Qui c'è un muro da distruggere Questa è una porta aperta Cos'è? Ti sento eh? Ti sento nell'ombra Oh merda Eccoti Ok 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 Via Madonna James Ma ti do un comando Lo devi rispettare Cioè non puoi Lasciarmi così Nel niente Disgraziato Ah Boh I colpi Li mettiamo a segno magari? James Per favore No Favamo scherzi eh Siringa che non avrei voluto usare Ma è stata necessaria Il vecchio è sempre attrezzato Questa è una di quelle foto Strane Questa è una Showcats Che da dove? Dove che porta sta? Ah ok di qua Ma vabbè Ok E quindi A entrare qui Cosa? Era solo per Per prendere I danni Ok E per la foto Per la foto strana Ma Va bene Invece A livello di No Non c'era un muro da rompere? No Ok No Quindi E mi sa che si va solo di qua Eh sì Questo l'ho letto? Sì Allora Chiusa Madonna Che posti di merda Eh ma secondo te Madonna quanto sono duri Oh cazzo Via E forse potevo anche evitare Di usare I colpi della pistola Pirlazzo Scavalchiamo Per dei colpi di pompa Not dead E di qua Ok Ok Ehi Ma Ad esempio Dove sto andando? No non volevo prendere Tre Oh comunque Ho un botto Di colpi di pompa Ah gli scarafaggi Ma non ci sono solo gli scarafaggi Beh E' una linea Chi è che rutta? Sento ruttare Allora L'educazione Prima di tutto Eh sì Ti pare Questi cessi Questi cessi Sono tranquilli Questo è chiuso Qualcuno ha il cagotto Qualcun altro ha il cagotto Ma tu sei scemo Ma tu sei completamente scemo Ma tu sei completamente fuori Ma mi urli nelle cazzo di 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 Ma che è Oh 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 Ma stanno fuori Completamente Ma che è Ma è bambasa cosa Ma io non ho parole Io sono senza parole Qua c'è un salvataggio Cosa Bellissima Cosa meravigliosa Ben voluta In questo momento E salviamo Però Porcaccia La mignotta Ma Ma si fa in questo modo Ma Cioè ma non c'è più rispetto Veramente Ormai si urla Così a caso Dentro i cessi Non ci sono più i cessi Di una volta Che c'è scritto Rip Your Soul Raccojicio Ah ah Ripio Ah ok Raccojicio Che hai seminato Eh si c'è Rip ok Perché Ok Il soul Non pensavo Si dicesse Seminato Non pensavo Si dicesse Quel soul Si è chiuso dentro Ha preso la chiave Nessuno delle guardie Ne ha una di riserva Ma io so che c'è Stava Stai calmo Stava impazzendo Per la malattia Vedi se la caposala Ce l'ha Pensa di essere al sicuro Lì Avrà ciò che si merita Chi è che sta Ruttando Dietro di me Scusate Ah la signorina Che rutta Ma a sto punto Considerando che io I colpi di pompa Li ho Eh Magari Ma magari Mettiamoli giusti No Ha sentito Una sega In tutto questo Una sega Comunque Però va bene Certo Non usare Tutti sti colpi In questo modo Però Il ragionamento era I colpi di pompa Li ho Va bene Li posso usare Però Sempre con criterio Non quattro colpi Contro una minchia Di infermiera Non è il caso Che cos'è questo Un altro glimp Ok Un ferro di cavallo Un po' di Un po' di Liquido seminale E un clipper Che cosa sto sentendo Tv Niente tv E' finito il tempo Della tv Stronzi Allora Io direi di qua Per Aaaaa E mi sa che Posso andare Solo di qua Aaaaa Cazzo E sono un bel po' Lì dentro Però aspetta Magari Magari Il cazzo Ok Questo abuso di colpi In questo momento È dovuto Perché mi sto Cagando addosso Quindi va bene così E me ne pentirò Però Per ora Ok Nuove regole di condotta In vigore da subito Le guardie devono sempre tenersi a distanza dai prigionieri Due Qualsiasi tentativo di avvicinarsi alle guardie da parte dei prigionieri verrà punito con un'immediata azione disciplinare Tre I prigionieri devono essere confinati nelle loro celle fino a nuovo avviso Vabbè Però regole Ferree Dure Per uomini duri Allora Per il resto Oltre alle regole dure Qua c'è una colpa di pistola Not bad Sto pensando Forse tra tutte le armi conviene usare maggiormente la pistola Perché contro i boss Credo sia quella meno performante I nemici posso farli fuori con la Con le pistole Però sti stronzi se mi attaccano in gruppo Diciamo che Cosa buona e giusta usare Cosa volevo dire Questo simbolo l'avevo visto da qualche altra parte No stavo dicendo contro i boss I boss conviene andare di pompa Con i nemici normali di pistola se posso Referto incompleto Rapporto sull'esame medico ripetuto Conclusioni Nessuno dei pazienti esaminati manifesta alcun sintomo o segno clinico di una malattia potenzialmente mortale Contagioso di altro tipo Sono state eseguite anche le prove di resistenza consigliate I risultati sono stati consegnati direttamente al direttore Come da lui richiesto Perché lo stiamo facendo? Ah e non lo sapete voi Voglio dire Cioè Se non lo sapete voi Chi lo deve sapere Voglio dire Io no Certo Allora Colpi Pistola Questa chiave del piano superiore Ma piano superiore si intende Perché ripeto Mi ricordo Mi ricordo Ah quella 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 Mi sa che è quella cerchiata Credo sia quella ricerchiata Quindi Spero sia quella Almeno Se torniamo indietro E da qua però Perché Da quel lato Cippa Se si torna di qua Ok Va bene Andiamo Candele Altre candele Una posizione particolare Ah Perché siamo sopra la cappella Ok Sempre da contestualizzare Da contestualizzare Ah Questa viene sbloccata Ma porta dove? Ah nel blocco Ok quel blocco Va bene No direi Si continua di qua Ok Ahia Non nessuno ha dato questo permesso Di attaccare Porca miseria Ma che cos'è questa aggressività Ma vaffanculo va Uh Tiè Allora Salendo ancora Ma cosa andiamo incontro? Colpi Di pistola Una porta chiusa E qui Calma 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 Cos'è stato Sto suono? Una macchina da scrivere No gioco sbagliato Scusate Ah No aspettate Io non mi sono nemmeno reso conto Cosa? Ma sono stato io A Non mi sono nemmeno reso conto Sono stato io a scrivere effettivamente? Perché io ho messo Ho premuto tasti a caso Per cercare di capire Cosa potesse No vabbè Il maestro dei rompicapo Completati Senza un minimo di criterio logico Ho capito dopo quello che ho scritto Ho scritto Sick Malattia Malato Ok Ma non Io l'ho scritto completamente a caso Nella speranza Di capire un minimo Vabbè Vabbè Incredibile Tendenzialmente Sono una pippa Nei rompicapi Però Vorrei dire che E penso sia l'ultimo peso Comunque Perché considerando Peso leggero Ma Considerando quelli che ho trovato prima Sì Presumo di sì Quindi vabbè Allora Si deve tornare giù Ci si tornava Da Ah ma Ah no Aspetta E questo era vivo Io ci stavo Lo stavo guardando Praticamente Va Va bene Come si scende Ehi Oh merda Che incazzata Ah Oh merda Uh Boom No Però non puoi fare tutte ste robe Allora Ma che dobbiamo fare No vabbè Ma siamo seri cazzo Quello che volevo capire io è Docce No ma Non devo tornare alle docce Ma che stronzata Devo scendere Davanti Ok Lui è vivo Lui sta meglio di me Sì Al solito mi guardano Va bene Questi nemici di base guardano Non attaccano Hanno questa Questa mania Nell'osservare E che fa Ma io lo fai fare Con tanta bellezza Eeeh Dritto per dritto Ma io salverei Intanto Entrando Quindi Se salva Ok E si butta via il peso Qua Ora Ora io quale devo Quale dovrei andare a fare A mettere No a fare Ah intanto li tolgo tutti Così capiamo Ok Eeeh No Ok Quello Troppo Troppo vuol dire Che se io vado a mettere Che ne so No Io devo fare peso di qua In questo momento Devo fare peso di là Cazzo poco Manca poco Pochino eh Troppo tanto Troppo tanto Cazzo ma di Troppo tanto No Troppo tanto Poco No Poco Da aggiungere Da mettere Da togliere Vaffanculo Questo No Via No Metti Togli Cazzo Metti Mastardi Togli troppo Bella madonna Metti questo Dai Ma dai Ma in che senso Ma scusami C'è praticamente sopra Figa Rimetti Cosa fai Nessun oggetto Oh madonna Questo Mettilo qua Quello Mettilo là Questo Mettilo Che cosa stiamo facendo Qui No Ragioniamo Questo Non è ragionare Troppo Troppo ragionare Cosa sto facendo Non sto ragionando Ok No No Ma deve essere Perfetto Praticamente A livello Di Aspetta Allora Ma non ho capito Ma non è Ma dai Ma non c'è Scusami Scusami A meno che No Quella è la colomba Giusto No Per intenderci Un attimo Cazzo Io non mi ricordo Più quello aperto La colomba Non mi sembra Di averla aperta Fino ad ora Il cinghiale Me lo ricordo Il serpente Senza testa No Il serpente Me lo ricordo pure Come mi ricordo Il bue senza corna La colomba E' l'ultima E però James Amico mio Qualcosa Non combacia Per come Vorrei farlo Combaciare Ma cosa Non capisco No 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 Cazzo no Sì Faccio Queste cose Però Ok Troppo Mi sa Merdaccia Secca C'è quello Un pochino Più pesante Rispetto a questo Tipo questo Ma Però faccio Tutta sta roba No Ecco sì Aspetta Però Secondo me Ci sono Tipo Mezzo Quasi No Questo Rimettilo Butta Lì Allora Porca Eva Pazzesco Dall'altro Lato Oh Madonna Non so se Penso di doverli usare tutti In ogni caso Però Devono avere un senso Non penso ne manchi uno di peso Oh Che cazzo però Ok Quindi ho aperto Quello Del vaffanculo T'ho visto Merda Cosa ho aperto Questa Oh merda Sto correndo Ho aperto questa Vè Se mi interrà Porca mignotta No No Allora Non è che mi devi fare sti scherzi Allora Lo puoi anche colpire il nemico Grazie James Siamo interrato Merda Ecco Cazzo Cos'è? Donna in volo Donna un po' particolare Però vabbè 436 persone Ha un recital Donna in volo è una Questo 436 persone Uomo in fiamme Uomo? Dov'è l'uomo in questa Burning Man? Non lo vedo 1 4361 Devo memorizzare Questo Questo strano codice Avrà un significato? Boh Scopriamo vivendo Allora No T'ho visto Furbo Quello è un altro peso? Quello è un altro peso? Ma non mi sembrava ci fossero altre porte da aprire Comunque potreste anche morire Tipo Grazie Ok Allora Quello che non capisco Ok Si apre Niente Oh aiuto Cazzo Ok Ok No Ok Bravo James C'è una scala Prechiusa sta porta Porta miseria Porta miseria Oh no Ok Boom In de schiena Allora Eh vabbè qua ce n'è uno Ogni Ogni minchia Di stanza Bravissimo James Questo mi è piaciuto Questo mi è piaciuto Onestamente No Manca moricce però Manca moricce però Sono due Sono due Panico Mi sto impanicando un attimo Carica Ok Perché due Perché così in fila Mi ha usato due siringhe Tra l'altro Figli di merda Non ho parole Me ne ho usate due Che stronzata Stai aperta E si va sotto Ai 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 Cosa c'è qui Colpi di pompa Ed una nota A causa di Recenti episodi Di violenza Il detenuto D239 E' stato trasferito In isolamento Nella cella F6 F6 E quella là Dove c'è il peso Può essere Se non è quella Non saprei Ok Ho aperto F5 Ed F6 F5 Di là Ok Di qua F5 è questa? Dentro c'è? Niente Amma mia Che Che cella Simpatica Comoda Soprattutto Questa è F6 Il peso Più c'è E la Mi dispiace Mi dispiace Così tanto Non potevo Permettergli Di prenderti Ora ci sei Ora sei Che cos'è Che sta sbattendo? Stiamo calmi Confessione Sei ancora lì Vero? No eh Oddio Che si può? Quindi Torno indietro Con calma Non è successo niente Amici Come prima Va bene Ma indietro Dov'era? Di qua? No Merda Di qua Non si poteva più Tornare Vero? Aia Quindi Qualcosa Deve essere successo A livello di Di mappa Di ambientazione Allora Forse questa Ora Ma è sempre chiusa Questa Però c'è un mu- Uh aspettate E infatti Eccolo Dentro E si sale L'altro lato Ok Una porta Da poter aprire Salvataggio E via Qui c'è stata Una strage Oh questi sono Non erano quelli Che ho ammazzato io Non erano tutti Sti cadaveri Cadaveri si Ma no Fino a sto punto Oh cazzo Aiuto Fermi Tutti quanti Fermate Si salva Anche qua La vedo La vero La vedo grigia La vedo grey E via Cosa dice qui Eh sicuramente Devo mettere L'altro peso Ma per fare cosa Una volta L'estremità Sfilacciata Di una corda Tirate Scegliete Tra i dannati L'unico Che giustificate Scoprite I loro racconti Riflettete Su ogni peccato O lasciate Che a scegliere Sia il fato Che il verdetto Sia pronunciato Non mi è chiarissimo Onestamente Quindi Useremo La tecnica Che fino ad ora Mi ha portato Avanti Ovvero Il culo Ah il centro Il centro Allora Eh madonna Valla Aspettate Cazzo Eh No No Eh ora Valla Ad equilibrare Madonna Mia Di niente Ogni volta E sono Abbastanza convinto Del fatto Che i pesi Debbano essere Utilizzati Tutti Ad ogni modo Questo Togli Que Non Quello Quello Questo Ma dai Ma guarda No Oh che Cazzo Sti pesi Hanno rotto Tre quarti Ora Madonna Mia No Non questo Quello Piccolo Oh cazzo James Ma quello Non lo Sposta Aspetta 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 O sono Stranzo io O quello Non lo Sposta Completamente Ci ho fatto Caso Ora Non è Vero Lo Sposta Ma che Cazzo No no beh così un po' troppo ah dai mamma mia ma di niente ma com'è che perché secondo me allora questo in base a quando lo tolgo quindi ragionando in questa maniera no però dall'altro lato effettivamente o magari o magari questo quanto toglie non questo non questo l'altro questo poco veramente poco veramente poco e mi sa così la minchia più o meno ok e se riuscissi a salire di un altro po' tipo poco però così è troppo no così è troppo no no ah allora cazzo eh mamma mia rimettilo qua non era quello va bene ma penso di averli provati più o meno quasi tutte le combinazioni cioè togli questo è troppo pesante per poter io credo servano tutti però non capisco come dover andare a combinarli guarda questo guarda questo questo qui basterebbe stare un pochino più avanti ma poco però deve stare poco più avanti tipo no però da questo lato certo quello è troppo pesante quello è troppo pesante finchia non riesco a capire al centro come faccio a farcelo andare al centro oh grazie che cos'è leva per esecuzioni leva per esecuzioni qui e non è che mi piace tanto sta rappresentazione ok mi hai spezzato le gambe per non camminare mi hai strappato i denti per non parlare mi hai dato pillole per non ragionare così ti ho ucciso prima che mi potessi ammazzare ok oh madonna oh cazzo ma che cosa aspettate ah sono tipo aspetta fermo fermo posa ok credo di aver capito hanno una logica questi non si possono spostare questi no non imploro il perdono dal peccato perché la fiamma lo ha piccato perché la fiamma ho piccato i bambini piangevano le suore gridavano e alla fine nemmeno respiravano fiamma qualcosa a che fare con la fiamma altro nemmeno intendo li ho osservati bruciare li ho sentiti piangere sentivo uno strano calore in me crescere non lo nego mi fece gioire e per rendermi felice dovevano morire e questo è uno ad altri ho rubato oro e argento ho infranto il settimo combattamento combattimento comandamento eppure non mi pentro le mie azioni poiché avevo le mie ragioni rubato rubato quel che possiedo credo sia questo penso sia quello fatto nascere in realtà un perfido essere mentre la mia lava la mia lama veniva dalle vittime al fatto gli sapeva le regole sono piuttosto chiare se ti opponi a me dalla morte non puoi scappare e credo sia questo ok è vero l'ho rapita presa con me mentre era assopita non ha urlato non ha lottato ero suo padre tutto sommato l'ho rapita parlava di una bambina prima questo penso che dice eh padre ti ho fatto nascere bastardo il mondo intero questo ok quando la luce del sole era ormai svanita ho spezzato la catena arrugginita ho forzato la porta e mi sono intrufolato nelle mie tasche ho messo tutto ciò che ho trovato però anche questo mi sa di ladro potrebbe essere questa come l'altra in realtà perché mi fa questo è gridato mentre un coltello ok questo e a sto punto questo che dice l'uomo è apparso non mi aveva visto non mi ha visto la sua fine cruenta non l'avevo previsto cosa dice questo ok ma no ma perché secondo me devo alternare questo e con quale no con questo qual era con questo no allora magari devo uscire e tipo ripremere la merdaccia di niente ok che dice che cosa in alto aspetta devo scegliere uno e fare cosa no non credo non è quello il ragionamento e questo è sicuro questo ho dubbi questo credo sia questo ok ma e penso siano giusti non ho capito se devo per caso non capisco se allora credo gli accoppiamenti siano giusti la fiamma ho appiccato i bambini piangevano è entrante il settimo combattimento comandamento no ma secondo me questo però perché avevo le mie ragioni non so se magari devo fare altro non so perché c'è questo omino muncolo mi è perso ma non mi ha visto oppure c'è stato un salvataggio ci sia stato un salvataggio non posso toccare più niente ha salvato oh cazzo aspetta oh merda devo condannare chi credo sia il più eh diciamo che l'uno è l'uno a livello di di crudeltà se si intende quello non so se intende quello che è successo cazzo hola ecco non so se è stata la scelta giusta oh merda potrebbe anche non essere la stata dove sono cazzo dove sono ma non una mappa mi sa di mi sa semplicemente di arena che mi ha punito per la scelta sbagliata potrebbe essere quel concetto lì di cazzo non lo so perché se salgo perché lui non ho capito se mi ha chiesto di punire no no non era la scelta giusta ok non era la scelta lui non mi chiede di punire lui non mi chiede di punire lui non mi chiede di punire lui mi chiede di quasi di assolvere in un modo un po' particolare c'è questo concetto di assoluzione quello che considero meno peccaminoso tra tutti questi quindi questo in ordine poteva essere il peggiore ma a leggerli forse il 3 sono indeciso tra il 3 e il 4 ma io proverei il 3 tanto è diversa la cazzina non ho capito se ho fatto la scelta giusta mi viene da dire sì mi sa che ho fatto la scelta giusta e cazzarola e salta e dai comunque si scende sempre di più va bene allora altro posto di merda che cos'è ah un altro buco via va ok ok ahhh oh bella colpi pistola e via sempre più in profondità uh eeeh come la scelta che Aia! Salvataggio! Sì, era la scelta giusta, comunque! Ok, con tutto questo non so dove... labirinto? Labirinto? Merda! Senza una mappa sempre... a quanto pare... suoni sempre un po' sibillini... salvataggio... questo... Il co-n di un uomo più tardi identificato come Thomas o ro-n taglialegna a 39 è stato trovato s... a faccia in su in mezzo alla s... s... ok... La probabile causa del B sono diverse ferite da coltellata alla parte anteriore del collo e alla parte sinistra del torso inflitte da un'arma tagliente del decesso estimata tra le 23 e mezza... In base ai segni di lotta, nella stanza e all'assenza di un'arma del delitto, la polizia lo... dera un caso di omicidio e ha aperto delle indagini... Inoltre, poiché è stato rinvenuto del denaro nella stanza e il signor Oro-n ha avuto episodi di ubriachezza e di violenza in passato... La pol... polizia, suppongo... ta... che il m... movente non sia il furto e che... si tratta di un delitto... ...passionale? Per capire così... Angela? Oh merda! Aspetta... Angela? Dov'è? Papà? Chiamava suo padre? Lo ha trovato? Non sappiamo in che condizioni però... Niente... 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 Spiripompa... Chiusa... Angela? Angela? I'll be good, I promise... Tell him I'll be good, please... Andata completamente... Angela, it's me... No... Please... Eccolo... Ma... Ma che è? Eccolo... Oh... Porca merda... Che cazzo... Sè... Oh merda... No, 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 via, fuga, fuga, scappa, escape, vuol dire fuga, dimmi, è chiusa, è chiusa, merda, via, no, james, ok, oh, maria, ma che è? Non capisco se devo scappare, effettivamente, cazzo non lo so, potrei anche pensare di combattere, nei momenti in cui spunta, tipo, ora? Aia, perdonami, oh merda, oh porca puttana, ma che cos'è? Mi ha distrutto, vai via, ma che è? Ma no, ma aspetta, ma ha distrutto? Maria, maria, mamma mia No, non scherzare, via, via, james, magari, schiva, ok Eh, devo beccare i momenti dove Ma poi che cazzo sto guardando? Oh porca merda Ma, ma che sono sti scatti? Eh, va bene Forse la carabina qui può essere Ma, acceda per il passo o è una sensazione? Tutte le cura che se ne vanno a farsi fottere Ok Oh, maria, santissima, ma che cos'è? Madonna, che schifo Che cosa? Non è mai, non è mai morto Cioè, sta, tipo, meglio di prima, possibilmente Oh, mamma mia Angela Oh, cazzo Che cosa? Facciamo scherzi, ti prego Ecco Che dove? Brutta situazione Angela Cosa è là? Dove vai? Eh, però Lì è entrata là Perché sto andando qua? Boh Vabbè Poche domande Via, 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 via Qua Ardinean Sì C'ho schifo Cosa? Ma stai zitto? Oh no Ecco qua Perfetto Meraviglia Ahia No Lasciami Vai via No Che cosa terribile Madonna mia Madonna mia Ma che cazzo è comunque Oh la 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 Buio Ok Oh madonna mia E Sembra quasi Un letto Con un soggetto poco 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 simpatico Sopra Sopra Non lo so Non lo so Che cosa cazzo è? Una roboscena Ah qui c'è l'orsacchiotto Angela Che cazzo devo fare Angela? Ah Oh Non è più possibile però James Ti conviene correre Che lo sento Merda Ah merda no Sa che si deve combattere Anche qua Ok Via Pompa For the win Che fa? Buio Vabbè Si deve più o meno Schivare Ed attaccare Alla fine Vabbè Abbastanza Ok Non dirò easy Perché anche nella prima fase Labbra di carne Non era tosto E poi è diventato Tosto Tutto in una volta Lo sento eh Credo sia qui Merda Pensi andare Tear Scappi E dove Niente Fuori Zitto Ah merda Via 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 Corri James Corri Cazzo Ficcati Oh Uh la la Qua Ecco qua Colpa Hai facendo Credi DS Re speciale Non va Silenzio Salvataggio Ok Almeno Colpi carabino Aia E mi sa che è il momento Reale combattimento Qui Ecco qua Perfetto Forza Gran figlio di puttana Ah Merda Via Ok Ok Oh Non mi piace sta presa Sono due persone Comunque Una sopra l'altra Cazzo Pompa 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 Sì sono due No Ok Via Merda Forza Wow Ok Ok Vabbè fino a quando Ci si può girare intorno In questa maniera Ok Dimmi che è morto Che davvero Wow Wow That's fat appia Ok It's over Don't even try Try what? Like you don't know I see what you're doing It's always the same with you You're only after one thing Angela, please You don't have to lie Go ahead Say it Or you could just force me Like he always did it Lui? Lui? Brutto maiale I don't know who you think I am But I don't want to hurt you I just want to get my Mary back You're Mary Your own little Mary At least she was For a while What? Admit it You didn't want her around anymore No You probably found someone else No I need to find my mama I need to find my mama I need to find my mama Lei urlava papà Papà no I never Poi brutto maiale Non è che magari Un passato difficoltorio Ma allora in effetti Adesso Non voglio essere Sconcio No Però A livello di Eh che cazzo Quello è Scusate C'è più chiaro di così Questo è un letto Si parte dal presupposto Eh 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 Sa che la povera Angela Brutta Brutta storia Brutta roba Almeno L'abbiamo liberata Dal suo Terribile Passato Mi sembra di aver capito Come boss Fatti una merda Cioè rispetto Rispetto a A labbra di carne Valeva un quarto di quella Eh Or io non so Giusto Probabilmente questo È nell'originale Pure E non sono arrivato Comunque Ripeto A combatterlo In quello che era L'originale Però Qui Cioè bastava Girare Intorno Effettivamente E si sminchiava Cioè non riusciva Non riusciva a colpire Perché puntava solo Ad una presa E ad un attacco Abbastanza leggibile Quindi Va bene Mappa del centro Del labirinto Ah cazzo Quindi si continua Che cos'è Questa situazione Oh madonna E non credo Si possa passare lì Ah proprio a naso Si può salvare Però Ma Ok Sempre il labirinto Comunque Crocevia Eh ma i labirinti Non è che facciano impazzire Vabbè Questi Sounds Altra cazzi Eh Maria Maria I thought that thing Killed you Are you hurt? Not at all Silly Non te lo ricordi Oh Non te lo ricordi Non te lo ricordi Non te lo ricordi in that long hallway are you confusing me with someone else you were always so forgetful remember that time in the hotel are you you said you took everything but you forgot that videotape we made I wonder if it's still there how do you know about that aren't you maria i'm not your mary so you are maria i am do you want me to be all i want from you is an answer it doesn't matter who i am i am here for you james see i'm real don't you want to touch me i don't know well if you happen to make up your mind i'll be waiting i'll find some way to i'll come back i promise mi si sta un attimo fottendo il cervello maria mary maria non la conta giusta non la conta poi dici poi james poco fa non te lo ricordi mi chiesse se lo ricordi è stata è stata trapianata trapianata da un c'è oh ok questo va bene facciamo finta che va bene oh porca eva che cos'è questa questa situazione qua non so nemmeno se ho fatto la cosa giusta però sembrerebbe chiusa chiusa aperta cazzo suoni mappa del mappa dell'aria putrida che senso oh merda ah che schifo che cos'è il suo suono? che tiro per pistola wow è tutto molto molto contorto in questa zona ok va bene stanza putrida aspetta io vorrei capire un attimo in ordine certe situazioni però sento dei suoni in lontananza che cosa? oh merda oh merda oh merda ma non credo che da lì sotto possa oppure può e non lo so però nel dubbio e allora questa stanza cos'è questo? penso di dover tagliare la corda la fune la si ma cazzo sembra una zona bella elaborata colpi carabina che al momento si sta rivelando essere l'arma più devastante no? ma cazzarola ma sti cosi non credo di poterli attaccare ma non so se mi possono danneggiare penso possono danneggiarmi e io infatti vorrei un attimino farmela di corsa non sapendo né leggere né scrivere aia oh cazzo si 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 possono attaccarmi ok 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 via 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 no oh merda più di uno eh ma non so dove devo andare c'è un laberinto ok cazzaro l'ho aspettato aiuto ok no perché me lo sono preso ma dai affanculo va là ancora perché ha sparato tutte ste volte cazzata merda vabbè beh penso sia più o meno andata erip però dopo un dopo una roba del genere poteva il gioco mettermi almeno una forma di non lo so di rifornimenti no questi cazzi mangi il gioco va bene cioè ho una mi abbia fatto salutare tutto questo ancora eh l'obiettivo è provare a rifornirmi di nuovo a livello di curativo e di munizioni vaffanculo guarda porca Eva siringa va bene è comunque brutta la situation veramente brutta questo si porta là questo si può aprire però tutti e due si possono aprire un attimo allora dimmi che non c'è niente in entrambi ma incredibile ok ma tra l'altro l'audio ahia sfarfalla l'audio pure non so se è la zona anche a dove sia a sto punto cazzi che cosi che schifo è eh sbocca manchi solo tu James che cos'è tipo liquido si si è liquido gas si liquido infiammabile il gas ok ho trotto il gas devo trovare un accendino no? ok ok si passa qui sotto e si torna in questa zona un po' di merda ahia via 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 si oh merda dove sono? no ma qui ci sono stato no si dice la gabbia sospesa e penso io dovrei andare dall'altro lato quindi salverei un attimo e si va dall'altro lato stando sempre attenti ok vai via mamma mia via e mi ha colpito ma ha fatto anche molto male bene fa piacere altri beh oh che bello cazzo per favore apriti ok ma ah ah oh no mamma mia questa niente beh di qua ti prego però apriti ok ok bevanda allora aspettate ok si apre quindi dentro cazzo sento merda l'ho visto ok benissimo tant'è che mi sta venendo da pensare probabilmente avrei potuto ucciderlo semplicemente con il tubo probabilmente si ma sa come combattevo evitavo di sparare io addosso i colpi della carabina si poteva fare decisamente ci sto pensando ora però beh ma si poteva decisamente fare comunque si si non era non è un boss difficile cioè non ho preso un colpo non ho preso un colpo io parlo di quella di quella fase lì comunque del combattimento cioè alla fine un colpo non l'ho preso quindi realmente è vero non era difficile e questo? è qua sicuramente in questo buco che oh che schifo mestruo? che cos'è sta roba? ma vai sì ma tanto stoppino perfetto a questo punto io direi combina sac magari aggiungi ci vuole una terza roba? no 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 cazzo come ci vuole una terza roba no 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 terribile eh io ho due robe no via James James però puttanaccia e pazza io ho capito però questa zona è infame forte oh mamma mia oh cazzo salve non vedo niente ok no continuo a non vedere nulla questa cosa la devo la devo appuntare non tendenzialmente i combattimenti fisici non tengono sempre il lock che non è una cosa che mi piace tanto cioè io voglio sempre vedere il nemico quando sto combattendo comunque ok zona nuova c'è sta cosa che si perde il lock è un po' e non è la prima volta che succede a livello proprio di recidivo leggermente recidivo però vabbè che cazzo oh madonna mia non ce la posso non ce la posso fare proprio a tenere a tenermi niente in salute eh vabbè io mi auguro non ho cure seringa mi tocca voglio dire sto crepando qui chiave di ferro ho capito cosa apre ma ci dobbiamo arrivare bella roba bella roba mi stanno devastando allora la porta ecco dov'è è là e mi devo fare un bel po' di strada e ci sono questi questi stronzoni on the ground quindi attenzione massima james magari se ci muoviamo mamma mia meno male dritto non ricordo io vado dritto perché non ricordo ok perfetto è qui apri questa mi auguro stia finendo questa roba che c'è qui è sempre indaga aia brutta e non posso e non posso metterci le mani quindi che cos'era quel suono terrifying terrifying niente ok allora ok qua bene 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 gira vai ma 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 spawna noi le bratte che schifo aia andiamo ok prendi perfetto ora si combina tada e ora diamogli fuoco prima salvo prima si salva as always quindi uff aia cazzo la testa aia e poi si va cazzin e lasciamolo cazzinare oh lo devo seguire beh eh che fa scherzi eh che fa te ne privi quindi magari james james mi sei buggato james no ok ok salta eh vabbè ogni volta questo questo doppio momento devi dare la doppia conferma perché ci ripensa un attimo un momento di ma magari è meglio non farlo però alla fine si fa sempre ok 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 ma di nuovo? di nuovo? devo rifare? sì? ma che senso qual è? ma ce ne sono di più oppure? ok sto cercando di capire più che altro il senso porta chiusa dove sono? oh merda mappa dell'aria desolata se è desolata vuol dire che non... giusto? non c'è nessuno sto cazzo insomma sì 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 proprio è proprio così normalmente è un'aria desolata in un'aria desolata normalmente non c'è nessuno non c'è niente invece a quanto pare è proprio il contrario porta chiusa è proprio un brutto labirinto di merda cioè a tutti gli effetti cioè è un labirinto del cazzo che si divide in più labirinti comunque cioè non è un labirinto fine e chiuso a se stesso è un labirinto che ha diversi labirintini è una matrioska di labirinti praticamente ahi ahi ok ho capito dove vorrei arrivare il gioco ehi la giovane magari ti colpisco solo tu? va questo è un saluto ben venga colpi pistola questa è una shortcut dovrebbe essere una shortcut tra l'altro lui non raccoglie effettivamente una mappa ma la mappa spawna nel tempo per far capire comunque come ci si trovi in una zona diciamo leggermente poco poco reale ecco a livello proprio di di composizione no mappa del piano sommerso cioè ma crea mappe su mappe oh merda questi si possono combattere fisicamente però ok e questi si dai questi si può dietro dietro qua vedo ok si vede una una ciosba as always colpi pistola qua nulla qua da dove sono arrivato no ok che cosa è stato ah ok l'altro lato ahia lo sento lo sento ma non lo vedo lo sento li sento ma non li vedo oh merda no però lo dobbiamo colpire James lo dobbiamo colpire ok James ti dobbiamo colpire nemico ma che cazzo stai facendo che sta sul muro e prendi a calci il muro oh oh ma questi qua no sento la preparazione dell'attacco wow madonna che inquietudine comunque ti è potresti morire no mamma mia che schifezza comunque è morto così è infartato ma che che gli è preso che non l'avevo nemmeno preso cioè vabbè per sbaglio l'avevo l'ho lisciato cioè ed è morto ahia ok ti sento le orecchie ancora funzionano bene amico mio ancora eh pappanculo lo sapevo non vedo una sega oh grazie questa colonna sonora un po' un po' tratti un po' tratteggiante mi ricorda l'originale non originale scusate non l'originale effettivamente il Alone in the Dark The New Nightmare non so se se sia presente quello quello mi ricorda questa scala ma che stai facendo ma sta prendendo la sfilata ma non ho capito la pistola non la senti per caso giovane boh ok si sono presi di coraggio eh ti vedo però ok ah diverse porte chiave piccola c'era una porta da poter appunto aprire sopra questa oh che silenzio questa che è chiusa aperta buh chiusa ah c'era una porta ok ok ci devi provare ecco ad esempio non vedo io ok a volte purtroppo non si vede nulla va beh ancora che fa vogliamo silenzio un attimo fammi pensare la porta penso sia quella quindi no quella è chiusa cazzo vi sto cancello con manette però ancora lì sopra devo provare a tornare a tornare alla 1 perché in fondo in fondo non ci sono stato quindi io risalirei e vai il giro un attimo perché intendevo dire dove stava? se giro di qua dove arrivo? no no 2 io devo andare alla 2 devo andare alla scala numero 2 ok eh sì perché dalla 2 posso tornare a quello che era la zona diciamo principale no allora dov'era la 2 in tutta sta è quella là sotto ma da qua ci devo tornare che cazzo e andiamo allora ok qua dopo che vado di qua sì e penso qui ok sì là ora allora se io vado più o meno scusati qua che c'è? io qui non ci sono andato? ok ci ero andato mi sa però e qua non ero andato io ah il sotto si può passare qui c'è una bevanda i suoni malefici gente col catarro si può dai non mi dire che ma ti prego ma non mi dire che non riesce a passare perché eh ho capito però io devo passare James però allora allora ah il frattempo qua c'è l'area ricoglionito ok intanto salverei però se io devo passare intanto accendo un attimo la luce perché come sempre si vede più una niente ok ai ora James abbiamo detto che dobbiamo passare lo sai meglio di me quindi io spengo la luce perché sennò lui viene attirato e quindi perde ho capito cazzo però se non mi fai forse non ci siamo capiti la di porta è chiuse ce n'è qui non ho capito cancello con manette ma lui la indica comunque no no ma la indica come è chiusa sto facendo una stronzata il cancello con manette semplicemente si apre immagino con la sono un pirla perché il cancello con le manette si apre con la chiave piccola almeno l'idea è quella perché mi devo complicare la vita mi devo complicare la vita quindi devo tornare alla all'uno alla uno torniamo alla uno da uno che sta ok qua cos'era? ah un buco c'è una specie di vassoio con roba roba quella è tradotta come roba la una è qua e se sto cazzarola di cancello non si apre così io non so cosa dire ok ora si ce la possiamo fare James ok progressio piano no ah allora questo ha colpi di no ma non è capito nulla però James di tutto questo ok è ok benissimo aia oh no lo facciamo male il primo colpo? grazie oh no bella yeah colpo e via ok lì si possa ok questo è quello che vedevamo da da quel lato ah ecco perché non si poteva passare perché c'era il il carrello qua va bene spostiamolo così in modo da riuscire a muoverci in maniera agevole così perfetto e via piccola birra la scala shortcut si per 4 addirittura cazzarola ah ma la 4 è dove sono sceso ora ok ok cosa è stai tu cazzai calmo nessun oggetto devo distruggere qua la la grata salvataggio oh madonna che cos'è un altro labirinto dentro un labirinto ma come cazzo è possibile che ok ok bah oh porca puttana eh no questa non me la non me l'aspettavo questa io non me l'aspettavo onestamente siamo a casa di piramide oh cazzo eeeh e che cosa dovrei il muro james mi ha spuntato un piramide selvatico a caso va bene 5 che fa gesticola con la mano che cosa fa tipo eh capito che te gesticoli lui gesticola lasciamo lo gesticolare poi ribecchiamo la scala james ok aia a e vorrei uscire vorrei prenderla no vabbè che cazzo ci fai qua oh no ma direi pompa qua no ma ha colpito sto stronzo e va bene è andato così qui facciamo scomparire l'amalgama e via che brutta zona questo uh queste mi servono le pinze taglia cavi leggendari le pinze taglia cavi aia stai zitto aspettate da quel lato cosa schifo c'era c'era un altro lato c'era l'altro questo lato ah ok risorse immagino beh cinque va bene allora le pinze taglia cavi eh queste servivano il problema il problema è capire la mappa non si capisce più una sega cioè non ora è diventata completamente illegibile dov'è che dovevo scendere per arrivare alle cavi aspetta un attimo aspetta un attimo perché la mappa mi sta dando serie problematiche di lettura la cinque la cinque ma qui devo tornare indietro perché se io torno indietro la quattro non ci arrivo e mi sa che devo tornare aspettate sì boh vediamo proviamo a tornare indietro qua probabilmente rincontro il signorino però effettivamente da lì ci si arriva aia lui guarda ora sta lì che aspetta allora ragionando a sinistra oh cazzo no 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 ma ti devi muovere però ah merda benissimo pure l'oro che schifo di situazione di merda ma come questa scala cos'è no un cazzo niente questa cosa è fastidiosissima a livelli infiniti comunque infinitesimali di qua corri James per favore merda brutta la roba bruttissima situazione penso si vada di qua se non si va di qua sono fottuto ok eh meno male poteva andare meglio poteva andare peggio quindi va benissimo così salvataggio ah lui mi inquarta tutto questo presente sempre presente lui oddio questo labirinto ha rotto tre quarti di più o meno di minchia in questo momento un altro buco perché non bastano mai buchi e scendiamo ti devo dire via mi sa di poter togliere comunque la fine perché realmente non 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 la vedo come la fine va bene così togliamo questo dal titolo così ok è molto più sensato allora dove siamo cubo rota un altro ma cazzo tante volte si deve fare questa cosa del cubo rotante è enorme questo labirinto comunque c'è di nuovo no quello l'ho già fatto chi sa e questo e non lo so mi sto confondendo ma non so non so se ho fatto uno se ho fatto l'altro ok il tuo miglior amico tre va questa forse era solo per una foto strana ok non ti non ti bloccare James per favore e già diventa complesso di suo ok questo ci sono già stato ora così la strada giusta è quella dell'andare a casaccio più o meno e sperare di andare per il giusto perché non l'ho capito non ho capito se un criterio c'è non ho capito se un criterio non c'è non ho capito non ho capito allora io provo girarlo di nuovo questo cos'è non lo no quello di prima e se io dovessi così qua non mi ricordo di aver senza simboli da me infatti non mi sembra di poter far nulla no così no però i simboli sono segnati un po' di lato ecco qua ad esempio non ricordo ah sono tre comunque cioè a livello di questa così non me la ricordo forse prima l'ho fatto senza il simbolo però era un'altra maniera ah ok levanda e colpi uno un colpo vabbè e cosa mi tocca fare di nuovo a caso per uno di quelli tipo questo l'ho fatto prima sicuro questo non so se prima magari ho fatto l'altro magari ho fatto questo e arrivato a questo vediamo però di qua niente madonna che oscurità qua non penso si possa no decisamente sotto mi sa di qua questo ponticino non me lo ricordo questa è chiusa ok questa non l'ho mai aperta mappa dell'aria in rovina e credo sia anche l'ultima zona cioè ha anche rotto tre quarti di minchia onestamente oh ok bene allora colpi aia questa è merda non volevo va bene benissimo però il bello è che li ha anche picchiati a terra ma vaffanculo la porta per favore james eh si sta bloccando tutto va bene qua si va di quasi va dritti di pompa e via però prima di interagire magari di nuovo con quella maledetta porta magari si cerca di capire la situazione tanto di quello che ho capito si alzano tutti a prescindere quindi va bene o li ammazzo o li picchio o non li picchio per terra però qui ad esempio ci si può andare prima di dover fare quel bordello lì se è necessario sempre perché magari ah mi sa di no mi sa che non è nulla di oppure ah colpi di carabine io andrei di pompa si appena trovato cinque colpi di pompa quindi va bene via non ci credo ok non è possibile comunque ok ok e lui e via merda ok city e via corridoio bello lungo ecco qua questa messa è proprio di di area semplicemente ad ondate fatta apposta per rompere i coglioni in poche parole e infatti sì 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 è questo è questo ma perché porca eva ma perché ma porca puttanaccia ma cazzo ma ma incredibile questa roba comunque ma vaffanculo va là va bene così e vabbè vita su vita colpi su colpi munizioni su munizioni cazzi in culo su cazzi in culo sempre sempre porca puttana ok carabina for the win qua non c'è altro no vabbè come ho detto è l'area questa è l'area delle ondate cioè ci sono semplicemente ondate di nemici ogni zona questo non è nulla di nulla di più nulla di meno tutto qui quindi ok allora e questa sarà l'ultima no già sembra una schifezza guardate ecco cos'è non vedo ah bene e io questo come lo questi come si combattono esattamente così cioè io sparo a terra aia non mi è non mi è chiaro questo concept sembra di sì mamma mia però è un po' una merdaccia mamma mia ma come cazzo si combattono non ci capisco una minchia su come si combattono non mi è non mi è non mi è non mi è bello bello questo miss ma è questo il modo di combattere questi che cazzo sta succedendo ma mi auguro ci siano delle cure, delle risorse ho usato un botto di colpi del pompa per questa meravigliosa zona a livello di cure mi sono massacrato ok è andata in maniera terribile ma poi non li vedevo quindi non è che io sparavo a caso si è tenuti a sparare a caso contro questi omoni vabbè eh sto cercando un po' di risorse perché come sono messo una tragedia una tragedia una tragedia ecco magari prima di usare la bevanda vabbè non l'avevo trovata quindi vabbè mi devo usare questo ok mi deve carriare la perché c'è un salvataggio qui? perché non ne hanno ancora abbastanza? ma io non lo so se non ne hanno loro ancora abbastanza quello che so è che oggi io ne ho abbastanza quindi a questo punto io pensavo fortemente vivamente potesse trattarsi dell'ultima parte invece mi ha mi ha stupito ancora mi ha mi ha stupito ancora e quindi anche se penso che realmente la prossima possa essere l'ultima cioè non voglio trollarla ogni volta però a questo punto non era questa e che cazzo penso l'altra penso l'altra abbastanza provato una parte provante questa e va bene stavo pensando ma va bene dai quindi come al solito da James perennemente è sempre più confuso perplesso contraddittorio senza una logica da me sempre più stanco dal libretto rosso sempre più rosso in questa ambientazione sempre più rossa ci si vede alla prossima cercando di capire cosa si nasconde dietro sta questo corridoio un po' shining esco ecco mettiamola così va bene signori alla prossima ciao